Tre ore in fila per un tampone, la storia si ripete, aumentano i contagi e ritornano i disturbizi. Domenica la fila al drive del Sant'Elia per la somministrazione di un tampone arrivava sino alla traversa di innanzi il Cefpass. Cos'è accaduto? Perché si è sempre al punto di partenza. Dalle 12 alle 14.30 in fila per l'effettuazione di un tampone sembra essere tornati al punto di partenza. Utenti indispettiti e le foto delle lunghe file nuovamente a intasare i telefoni. Abbiamo chiesto spiegazioni al direttore dell'ospedale e responsabile dell'emergenza covid Benedetto Trobia che ci ha detto che secondo il piano di emergenza quando i contagi diminuiscono il numero degli operatori al drive tamponi va ridotto. Adesso i tamponi non li fanno più i medici come durante le prime ondate ma i biologi. Mentre il direttore ha asserito che erano comunque due domeniche un infermiere per turno gli utenti hanno raccontato che ad eseguire i tamponi era un solo sanitario. I contagi sono in aumento e quindi provvederemo nuovamente ad incrementare il personale per ciò che c'è possibile per le unità che abbiamo a disposizione così c'è risposto. Trobia intanto c'è la possibilità che gli utenti possano andare a fare il tampone al paracarelli. Bisogna fare una distinzione però perché il drive del Sant'Elia esegue anche i tamponi per chi deve recarsi nelle strutture ospedaliere perché devono essere eseguite delle prestazioni. Mentre il drive del paracarelli è solo per il covid, per i positivi, per i contatti e i tamponi di fine quarantena.